Questi sono i nostri corsisti del corso di Caraibico e volevamo farvi vedere come ci divertiamo durante i nostri corsi. Quindi faremo una baciata, una rueda di baciata, come in solito normalmente ci sono le ruede di salsa, salsa sussuale copana, noi invece facciamo la rueda di baciata. Quindi mettetevi in cerchio, fate il solito cerchio, fermatevi. Bene, se siamo pronti allargatemi pure, io mi tolgo, fate pure un pochettino più di cerchio largo, riusciamo? Benissimo. E per voi andiamo con la baciata. 5, 6, 7 e via, 1, 2, 3, 4, avanti e indietro, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e via. Bene, base a lato, mezzo giro, a lato, mezzo giro, base e lancio dama, base. Attenzione, giri alternati, giri alternati, giri alternati, giri dama, cavalieri, dama, cavalieri e lancio. Base, allontanamento, via, 1, 2, sentata, giro tondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sciolgo. Chiudo, base e lancio, base, allontanamento, cambio opposto, cambio opposto. base, allontanamento, base, allontanamento e incrociomano. In crociomano. In crociomano. Carissima, base, base, e lancio. Attenzione, adesso abbiamo allontanamento, base, allontanamento e incrociomano. aiuto, avanti, dietro, via. In crociomano. Chiudo dama, cambio opposto, anello, base, e lancio, base. Allontanamento, senza la doble. base e lancio 5, 6, 7, base 1, 2, 3, 4, 5 ora attenzione prepariamo le mani abbiamo il full arm via lancio base prepariamo le mani prepariamo le mani setta donna, via 1, 2, 3, 4, 5 ombre giro dama lancio base allontanamento girandola in braccio umano lancio base attenzione siamo alla fine quindi andiamo con l'ultima figura di schiusura la sentata allontanamento sentata avvencio e bravissimi questo è il nostro corso di carai di video base questo fate una bella riga prendetevi tutti i nostri applausi questo è per invogliarvi tutti a partecipare ai nostri corsi quindi ci potete trovare presso la palestra dell'ex cinema audio venerdì 14 settembre facciamo una presentazione andate tutti verso il pubblico giratevi verso il pubblico ah va bene ok grazie 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 grazie